Ed eccoci di nuovo insieme amici di Studio 1, oggi vorrei parlare al pubblico dei più piccini, dei più giovani, infatti Studio 1 sta per lanciare una serie dedicata ai più piccoli. Vi racconteremo la storia di un cucciolo di dinosauro verde che viene ritrovato ancora dentro l'uovo da un gruppo di ragazzini con cui vivrà divertentissime avventure. Il dinosauro verde che è un dinamico, mangi patatine e sei magnifico, sei un bel amico, fantastico. Oh mamma saura, siete pronti? Ti voglio benedente, uno di famiglia.